ciao a tutti ragazzi allora eccoci qui nuovo episodio strano comunque ce l'avevamo lasciati diciamo in una situazione non decisamente bruttissima però nemmeno bella diciamo anzi forse è un po' rischiosa ma non rischiosissima mettiamola così vabbè 7 punti 5 partite rimaste l'obiettivo principale rimane come sempre la promozione di 2 guardiamo un po' se appunto ci riusciremo se riusciremo ad andarci insomma quindi andiamo a giocare vediamo chi sarà il prossimo avversario eccolo qui prima partita di questo video chiaramente andiamo un po' la valutazione 85 maglietta la miseria su questi si ribotta premi vediamo un po' vai di ghino vai di ghino eccolo dopo due minuti dego costa e andiamo comunque lagga parecchio eh è una cosa abbastanza odiosa vabbè un a zero va ancora di ghino vai no vai di ghino vai di ghino diago costa al 14esimo del primo tempo 2 a 0 e andiamo così levane levane mamma mia meno male cazzo 2 a 1 ve l'ho detto all'inizio lagga un po' e quindi la difesa già non trovo male diciamo che barcolla ancora di più io ho uno a cui anche lui diego costa mamma mia meno male nonostante questo lagga odioso Diego Lopes ce l'ha appareata era sarta sarta ma ancora Diego Lopes cazzo che palle 2 a 2 boh Diego Costa ragazzi solo con lui questa partita di poi Diego Costa 3 a 2 ancora lui trifletta e andiamo e andiamo bello bello mamma mia mamma mia sempre alla fine ma è andata bene per ora eccolo e finisce e tutto si perché comunque è una partita non tanto di sofferenza ma col fatto che come vi ho detto 280 mila parti in questa partita lì laggava parecchio e quindi soprattutto in difesa per chi magari ha problemi con me variate volte di lagga sa che c'è tanto da patire tanta sofferenza e quindi sono contento che io ce l'abbia fatta a vincere e niente altri 3 punti andiamo così una mano da tutta a modino perché sa è tanta vita che non va quando lagga insomma 10 punti 4 partiti rimaste guardiamo un po' innanzitutto da questo punto via la servezza obiettivo minimo principale la promozione crediamoci e andiamo a fare la prossima partita secondo avversario di questo video ormai tanta una prassi vediamo un po' vediamo un po' cosa mi aspetta anche a livello di squadra un'altra volta 1885 tesascento questa volta no cos'è che casino un misto fra liga premier bundesliga vabbè comunque c'è un'escrita la squadra tanto che e vabbè tira no arturo di a scopare il palo cazzo che ha come young di testa un a zero ah che palle ahhh dio bonno pensavo c'esse go capella dai ma si sta scherzando no ora a questo me la dovete spiegare ma che cazzo ma dai me la pace ve lo giuro cioè io non è che mi rifaccio con Diego Lopez tra virgolette con arienne per tre fk ma è già lo stesso ma si può prendere i go di lui ma poi che cazzo ha fatto cioè guarda di no però quando fa così ragazzi cioè davvero più che ti passa la voglia ti rendono che è un gioco che è strapiano di bug ma io oddio boh mamma che palle dio cristo era partito mi sembrava una partita abbastanza fattibile ma dimmi te 3 a 0 dopo in 7 minuti perché perché è un gioco del cazzo che palle dai magari ci manca ma vai che palle palo vai oh capella 3 a 1 dai che manca sempre tanto ce la possiamo fare forse 4 a 1 via decisamente ho quasi ufficiosamente finito siamo persi via immobile 4 a 1 attenzione ragazzi potrebbe essere una cosa positiva perché chiaramente vittoria non c'è però regola manuna alla partita no in teoria va a vedere va a vedere tutto me l'hanno annullata oh si cazzo me l'hanno annullata andiamo meno male via quindi stupido vi probabilmente c'è una partita in più se tutto va come deva andare vabbè dobbiamo fare la terza o se onda o se onda insomma via avete capito tira no no mertensi e fa tutto a modino tutto per bene e poi sbagliato si sottoporta vale costa eccolo no risau dai che polle dai che cazzo il solo tiro e fa di maria 2 a 0 oi 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 di 3 a 1 che è il runey eh direi sì fatechino eccoli diego costa 3 a 2 sto zitto non dio nulla andiamo un po' se cambia vai cosa buona vai mertensi 3 a 3 3 a 3 doppietta se non sbaglio si è regola si e andiamoli tira di chino no no dai di ericore ma porca troia die che polle ma poi alla fine mi era bella il parato boh speriamo di golopi e ti faccia il miravolo ma c'è di tu a porca troia 4 a 3 aghiero perso però che palle bella partita perchè mai è tirata fino all'ultimo ma di oi oi la perdi e così 3 partite rimaste 9 punti disponibili o ne vinco a 3 o se no sperano alla salvezza in palle però quarta partita andiamo un po' a succedermene in questo andiamo a un po' di ridi di vincere dai oh eh è quella di più valutazione 86 no guarda davide che squadra si cialo lì davide anche ronardo no po' in meraviglia tira barbo subito uuuu buone è venuto dopo un minuto di barbo sui friolosi mamma mia tira kievitz mamma mia vai a quadrato vai nooo tira kievitz nooo come hai fatto a sbagliarlo da lì meno male guarda sono contento gooo però di dai come cazzo ha fatto a sbagliare da lì mi diventa la migliore anide vabbè 1 a 0 alla fine l'importante è quello ecco boi come ha fatto non si sa però 2 a 0 vittorione barbodi no è che cazzo sarà il secondo tiro che fa tutta la partita oh e me vabbè ronardo ma di chi di colopio c'è più se posso che ci fallo boia mamma mia vittorio sono e che cazzo che palle ha fatto quello gris ma è nano tira nooo o come va di merda di via non riesce sì per la vindicesima volta rimango in d3 sempre se poi in queste due parti rimaste farò due punti non matematicamente non si può più andare in d2 e mi sono un po' rotto il cazzo perché qui che poi va a vincere 2 a 0 poi non ci va andando malissimo ma nessuno va mega scatti i giocatori fanno sale i pari vanno a fare gol gris ma anche è nano di testa ma via no no a me questi CV ve lo giuro mi fanno passare la voglia è un gioco di merda per quanto riguarda l'online fifa lui il bellino avanti vi fa è l'ultimettino ma poi quando c'è da da gioa fa cà se non c'è un'annessione stra decente stra bomba fa cà che palle 10 punti quinta partita vediamo un po' come va ohimene diventa la rotazione 84 è un casino mega mistone a partita lega vudeslega serie A comunque c'è anche se 100 tira eccolo 1 a 0 stefane sciaravi al quattordicesimo del primo tempo dai almeno la servezza guardiamo di prendere davvero se no qui rigore rigore non so se c'era vabbè comunque la fine non è male tanto ormai ancora Alaba persiste già nel precedente video non si vedeva un cazzo perché c'era Alaba era uguale comunque un po' se c'era però alla fine mello si per me tanto ormai FIFA ha anche un tocco in aerea rigore quindi andiamo un po' te avesse si fa go 2 a 0 vale quadriade 3 a 0 e andiamo con le stagioni a prestazioni che non si può vedere vabbè mamma mia le volo vola vai vai mamma mia ma che ti risuono mamma mia mamma mia te avesse ma perché un giocato sempre c'era la miseria ma come si sta scherzando si falla e falla ma io ve lo giuro ho giocato una volta al quadrato perché c'era il quadrato che fa i contrastini ha levato palla e ha continuato andiamo un po' benzema tanto ormai è molto bencazzato il gioco ha fatto si benzema 3 a 1 al 78 ma mi ha anche fino a far go giovinco di testa ragazzi finisce così 3 a 1 a regola deve essere salvo come sempre l'obiettivo minimo diventa purtroppo l'obiettivo principale e meno male alla fine riesco a almeno verlo a portarlo al termine diciamo l'obiettivo cioè giungo lo scopo ovvero mi riferisco per l'ennesima volta alla salvezza quindi niente salvezza ancora conquistata però che pane ragazzi mi riesce più ad andare su sì infatti salvezza c'è e niente ovvia prima di lasciarvi dato che ho fatto qualche creditino per via delle l'ennesime partite l'ennesima salvezza bla 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 apro un pacchetto cioè pacchetto vediamo un po' tanto per buttare via crediti tanto per trovo un bel giotterone ronardini ronardini ragazzi ma me ne rendete onto poi acqua fresca vada via cioè alla fine doppione addirittura alla fine l'unione cosa decente trovo sono cose non tratti che possono sempre servire vabbè via detto questo vabbè 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 sinceramente credo neanche voi avrete voglia di vedere tutte le volte io che l'ho tra i due non ce la faccio guarda se da solo neascandare di due male male vi faccio vedere diciamo o gli highlights o perlomeno l'ultima partita l'ultima partita che mi hanno permesso andare se ci sarà l'occasione in di due perché tanto magari con quello ciò ci rivediamo il prossimo video sono in di quattro però niente guardo un po' poi se si vede che la cosa si fa troppo lunga chiaramente niente tornerò a fare il solito appunto il solito commentino diretta live come ho fatto adesso niente spero di non andare troppo per le lunghe ma di rivederci presto massimo per una settimanetta e niente vi ricordo prima di lasciarvi di mettere mi piace al video se volete di condividerlo ma soprattutto iscrivetevi al canale tutte le volte lo dico tanto per boh alla prossima vabbè detto avesse ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie per la visione